ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare uno scrub delicato a base di avena e miele ed è come sempre velocissimo da realizzare e potete utilizzarlo anche come maschera se volete prima di utilizzarlo come scrub andiamo subito a vedere come realizzarlo per realizzarlo abbiamo semplicemente bisogno di due cucchiaini di avena un cucchiaino di miele ed un cucchiaino di olio leggero mescolo tutto bene 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 e poi vado ad utilizzarlo come vi dicevo prima se volete potete utilizzarlo anche come maschera per il viso quindi lo potete applicare sul viso e tenerlo in posa 20 minuti e poi utilizzarlo anche come scrub la vostra pelle sarà subito più luminosa e più setosa ma vi lascio giù nell'info box tutte le proprietà degli ingredienti che abbiamo utilizzato fatemi sapere se questi video così brevi vi piacciono o se li preferite un pochino più lunghi sotto nei commenti lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto o solo per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao